L'entusiasmo qui a New York per le industrie pugliesi che si occupano di cibo, in questo momento soprattutto pasta, biscotti, crackers, olio, è straordinario. Stiamo facendo il tifo per queste aziende, stiamo cercando di sostenerle assieme ad Union Camera e alla Camera di Commercio e ovviamente siamo qui anche per stabilire con i pugliesi del mondo, che sono i principali acquirenti dei nostri prodotti, quei legami che il tempo non riesce ad affievolire. Quindi chi ha interesse tra gli imprenditori pugliesi a partecipare a questa fiera sappiate che la fanno tutti gli anni ed è una fiera molto importante che apre il mercato americano. Buon lavoro a tutti! Ultimamente il brand Puglia è molto valorizzato e uniamo al territorio anche i prodotti della nostra terra. Ovviamente cerchiamo di ampliare il mercato americano, eravamo già presenti, però vorremmo esserlo un po' di puri, siamo un piccolo pastificio però abbiamo tante idee, molte, vediamo la pasta anche come evoluzione e non solo come tradizione, importantissimo, infatti i nostri prodotti lo rappresentano in una maniera migliore, pensiamo solamente alla qualità, lavoriamo solamente con semole nostre, pugliesi, con uno sguardo anche alle semole lucane, i nostri cugini che li amiamo e quindi di conseguenza cerchiamo di fare nel nostro meglio con questi ingredienti. che la nostra presenza è importante in questa fiera per far conoscere i nostri prodotti che già hanno iniziato il loro percorso di espansione e speriamo di crescere in tutti gli Stati Uniti.